A Rimini oggi e domani c'è Italia 5 Stelle, da due giorni del Movimento 5 Stelle e Roberto Fico non parlerà sul palco. Ora io non credo alle malelingue che dicono che Roberto Fico non è sul palco perché si sia rifiutato di sfidare Di Maio alle primarie per diventare Premier, solo perché la piattaforma Rousseau è gestita, controllata e taroccata da Casaleggio che vuol far vincere Di Maio. Così come non credo che Roberto Fico non parli sul palco perché è favorevole allo Iussoli rispetto ai vertici del Movimento 5 Stelle e non credo che Roberto Fico non parli sul palco perché è contrario al fatto che il Presidente del Movimento 5 Stelle e il Presidente del Consiglio siano la stessa persona, anche perché è la stessa cosa che contestano a Renzi. Io credo e sono fermamente convinto che Roberto Fico non parli sul palco di Rimini perché rimane sul cazzo a Beppe Grillo. Movimento 5 Stelle, Maggiore 3, I love you, Sipario.